se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, bentornati qua, è Savix che vi parla e benvenuti perché è nuovo nel canale allora ragazzi, oggi vi voglio portare la reaction a questo veicolo, la wheel che secondo me raga dopo questa modifica che hanno aggiunto di Benny è diventata l'auto più bella del gioco la cosa fantastica che va pure fortissimo regà, va forte ha il difetto che non tiene niente perché comunque è un'auto da drag, cioè da accelerazione lo scopo di questa modifica sarebbe proprio quello quindi partiamo subito con il chiamarci l'auto raga che è la wheel si presenta così, sarebbe il Volkswagen il vecchio Volkswagen regà come facciamo a dimenticarci il maggiolone se non conoscete questo film ragazzi andatevelo a guardare perché è pazzesco ve lo giuro come dice Michele Molteni è pazzesco ve lo giuro quindi andiamo da Benny regà e andiamo a fare la modifica come vi avevo detto nell'aggiornamento settimanale prima la macchina non costa assolutamente nulla costa 500.000 dollari ragazzi perché è scontata e vi consiglio di farlo adesso quindi di comprarvela e farla come avevo già pensato ovviamente la modifica ci costerà più di un milione perché 900 è solo la modifica di Benny regà più tutte le altre cazzate andremo a spendere poco più di un milione allora quindi mettetevi già in testa che per fare sta macchina 2 milioni li dovete buttare via così ci teniamo larghi facciamo subito la modifica regà che è una bomba guardate che cazzo diventa questa auto e sbada bam regà già così è una figata pazzesca io adesso vi velocizzo la clip mentre vado a modificarla tutta se no questo video durerebbe fino all'anno prossimo quindi ragazzi non ci incischiamo posso dirvi mentre la clip va bombazza che ci sono delle modifiche nuove veramente veramente carina sta macchina le modifiche sono una bomba hanno aggiunto qualcosa di diverso come modificare i fari davanti e dietro le punte sulla macchina ragazzi hanno fatto un bel lavoro con questa macchina qua secondo me vi voglio anche informare regà che siccome hanno patchato tutti i car to car io non l'ho portato ma se volete c'è il car to mc ok che vi moddate le auto le moto scusate ma è una cagata pazzesca perché per modarla dovete sudare 877 camice quindi non ha proprio senso quindi a questo punto raga non ci sono i car to car e forse Savix riprende a moddare e far drop ok solo con le persone più fidate perché ogni volta che troverò qualcuno che rompe il cazzo lo sbatterò fuori quindi raga l'auto è una figata ma guardate che bella che ha questa macchina sono in passiva sono in pubblica così era più bello farlo in pubblica raga in penna da far paura il sound è pazzesco e guardate quanto cazzo è veloce questa auto raga secondo me con le ruote F1 spero che prendano questa questa fisica che diventano così grandi perché deve essere pazzesca deve essere bellissima quindi stesso oggi o domani se ne ho voglia la moddo dopodiché organizzo un drop per quest'auto lo farò sicuro vedremo magari di farlo fine settimana o durante la settimana un pochettino come mi sveglierò la mattina deciderò quando farlo io vi avviserò ovviamente uno o due giorni prima ragazzi date tranquilli che se Savix decide ed è convinto di fare una cosa la porta avanti a meno che non è un po' titubbante come è successo con le zucche le 200 zucche che sinceramente io girare un coglione 4 ore nella mappa e poi non prendere il regalo diciamo ok la ricompensa e per averla devo chiamare Rockstar ma vaffanculo io non faccio le zucche raga la macchina è una bomba velocissima io vi consiglio di prendervela oppure aspettate che lo zio Savix la moda e ve la regala io vi lascio per oggi è tutto e sbada bam alla prossima bella raga ciao 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 ciao